Facciamo il recap della settimana per quanto riguarda il mercato azionario andiamo un po' a contestualizzare e a capire per chi il prossimo martedì potrebbe essere un giorno veramente rappresentativo un vero e proprio catalizzatore per il mercato stesso quindi produrre dei movimenti importanti in termini di quotazioni, in termini percentuali Ciao ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale Procediamo con ordine, ci eravamo lasciati qui esattamente sette giorni fa vi andavo a raccontare la migliore settimana del 2023 una delle migliori degli ultimi due anni e pertanto ci si poteva aspettare un ritracciamento o un po' di calma direi che le sessioni in linea generale sono state anche più positive di quello che uno si sarebbe potuto aspettare perché un vero e proprio pullback non è avvenuto diciamo che l'orso spesso e volentieri si ritrova in questo stato quindi riesce a governare, a dire la sua, a ruggire all'interno dei mercati ma poi nel medio-lungo termine quando ci rivolgiamo a indici più ampi come quelli mondiali o come l'S&P 500 l'orso fa sempre questa fine in maniera inesorabile andiamo un attimo a vedere quelle che sono state le performance del nostro indice come vi dicevo ci eravamo lasciati con queste 5 candele verdi, positive, forti e importanti quindi l'indice si è un po' calmato durante questa settimana salvo può andare a chiudere più in alto con prepotenza entrambe le settimane sono state un po' guidate dai discorsi di Powell se all'interno di quella scorsa cosa accadeva? si approfittava di una retorica un po' più conciliante rispetto al solito gli investitori del mercato decidevano di andare a interpretare questa retorica di Powell durante il suo discorso nel migliore dei modi possibili proprio perché l'S&P 500 veniva da una discesa del 10% e si trovava in uno stato di iper venduto dopodiché cosa è successo? si attendeva una qualunque giustificazione per prendere un minimo di profitto per fare un po' di ritracciamento questo è avvenuto giovedì cercando di interpretare un discorso tutto sommato tranquillo da parte di Powell ma cercando di andarlo a interpretare nel peggiore dei modi possibili proprio per avere una giustificazione per prendere profitto salvo poi venerdì finire la settimana in positivo ancora più in alto di quella precedente cosa ci ha detto Powell? Nulla di così nuovo anzi la solita filastrocca ovvero che non è esclusa c'è ancora la possibilità di un incremento laddove questa cosa potesse servire quindi non si esclude c'è ancora questa possibilità di un ulteriore incremento dei tassi e allora perché non prendono un po' di profitto? però diciamo in pochi ci credono sicuramente martedì assisteremo a un dato macroeconomico molto importante direi che la fa da padrona in questo periodo storico da almeno un anno e mezzo, due anni stiamo parlando del dato sull'inflazione quindi martedì vedremo quale sarà la tendenza negli Stati Uniti d'America se questa inflazione sarà un po' salita sarà un po' scesa, rimarrà appiccicosa quindi sarà molto interessante perché poi a seguito di questi dati non sono i soli che contano quindi ce ne sono anche degli altri ma in questo periodo storico sono importantissimi quindi a seguito di questi poi la Fed può decidere di intraprendere determinate scelte anziché delle altre e quindi andiamo a vedere qual è la situazione dell'Inflation Rate aspettando martedì vediamo come stia veramente ben al di sotto del picco del 9% dello scorso anno addirittura abbia raggiunto il 3% ma ora si è stessa a un 3.7% quindi tanta strada è stata fatta le politiche stanno funzionando il rientro comunque era fisiologico il problema è che ovviamente la Fed desidera quel famoso 2% quindi si sente ancora lontana dal target ma non è tanto quello il discorso quanto teme che dati macroeconomici come quelli di un GDP per quanto riguarda il terzo trimestre un più 4.9% negli States possano sostenere ancora questa maledetta inflazione e in più anche il mercato del lavoro si mantiene forte guardate se prendiamo un arco temporale molto esteso alla fine questo scarso 4% è sicuramente fra i dati più positivi anche se andando a zoomare cominciamo a vedere una tendenza ovvero un aumento della disoccupazione a livelli ancora inferiori al 4% ma viaggiamo a un 3.5% 3.4% e ci stiamo avvicinando a un 4% l'ultimo dato era il 3.9% è chiaro che le inversioni di tendenza iniziano sempre così l'esplosione è incredibile può accadere diciamo soltanto con una crisi finanziaria epica come quella del 2008 oppure se per legge chiudiamo tutte quante le attività e va bene ma altrimenti l'inizio di una curva comunque è sempre quella a cui stiamo assistendo in questo momento qui quindi qualcosa nell'aria potrebbe esserci ora attendiamo qui martedì questo dato io ovviamente I don't know non lo so come andrà perché non prevedo il futuro però posso leggere tanti dati non tanto per capire quale sarà il dato martedì ma quella che potrebbe essere la tendenza nei prossimi trimestri nel 2024 è per quello che vi metto qui bene il mio lavoro è fatto andando a indicare la Fed Powell io non mi aspettavo ovviamente un discorso diverso giovedì da quello che ha fatto per raffreddare un minimo l'entusiasmo doveva dire ma attenzione potremmo sempre rialzare i tassi però da luglio è fermo e non lo sta facendo per tutte le criticità già affrontate in questo canale quindi credo che il loro lavoro in termini di rialzo dei tassi sia giunto alla conclusione ma vediamo se ci sono un po' di dati come sempre a sostegno di questa tesi altro non rimane che tale perché abbiamo detto nessuno ha la famosa sfera di cristallo andiamo un po' a vedere alcune notizie continua questo declino degli affitti negli Stati Uniti America vedete gli affitti stanno crollando in tutto quanto il paese stiamo al quinto mese consecutivo sta accadendo con forza io vi ricordo che all'interno della composizione risultante dell'inflazione l'immobiliare e gli affitti hanno un'influenza determinante e questa ondata disinflazionistica impatterà i dati che usciranno nel 2024 a livello di inflazione quindi è una forza disinflazionistica che ancora non è esplosa che ancora non è rappresentata dai dati che ci vengono forniti sull'inflazione degli Stati Uniti d'America attuale andiamo a vedere anche altre situazioni ci dicevano a settembre che questo inasprimento dei prezzi del petrolio avrebbe potuto mantenere l'inflazione più sostenuta ma io da fine settembre ad oggi vedo soltanto un petrolio che ha ricominciato a calare inesorabilmente e quindi quello spavento sta avvenendo meno quindi l'ultima situazione che poteva ancora farci temere questa inflazione appiccicosa si sta calmando si sta acquietando e difatti anche dai distributori qui stiamo vedendo ovviamente tutti i dati degli Stati Uniti d'America ma perché parliamo sempre di questa economia che alla fine nelle sue scelte trascina quasi tutto quanto il pianeta inesorabilmente stiamo vedendo che i prezzi continuano a calare quindi vedete che effettivamente non sono così alti i prezzi al distributore con tutto quanto quello che ne consegue sia per i retail i consumatori i cittadini diciamo normali ma sia anche per tutto quanto il mondo del trasporto e ovviamente questo si va a riflettere sulla necessità o meno di aumentare oppure tenere fermi i prezzi e quindi vi è un trend in discesa pertanto tutte quelle situazioni che possono alimentare l'inflazione non stanno più premendo verso l'alto ma stanno continuando riprendendo una forza disinflazionistica andiamo ancora avanti e attenzione il Financial Times ci va a dire che l'onda di fallimenti proprio di bancarotta sta arrivando vedete sta arrivando per quanto riguarda i business quindi le aziende e bisognerà andare a misurare l'impatto possiamo continuare un esprimento delle politiche monetarie quando arriverà questa situazione qui credo assolutamente no e come lo so io come lo sa il Financial Times lo sanno anche i signori della Fed pertanto per assicurarsi che non ci sia troppo entusiasmo ogni tanto continuano con la loro retorica da falchi anche se ultimamente in linea generale si sono ammorbiditi parecchio ma nei fatti non hanno più usato aumentare ancora questi ulteriori tassi tanto è vero che attualmente ci si aspetta nel 2024 di cominciare a vedere il cambiamento di trend la famosa inversione ovvero assistere ai primi dettagli diciamo potrebbe già cadere la metà del 2024 comunque entro e non oltre il prossimo anno tantissimi ne sono convinti salvo poi i soliti cigni neri cose incredibili mai viste dunque andiamo a vedere qui nella previsione dell'ING è chiaro è una previsione di un istituto come ce ne sono tanti altri però può avere la sua autorevolezza insomma è chiaro che avrà il suo team di analisti supergraduati e loro vanno a prevedere questa tendenza vedete per il 2024 2025 quindi secondo loro entro il prossimo anno insomma fra un anno il target della fed più o meno sarà stato raggiunto e non ci saranno più scuse per ammorbidire le politiche quindi volevo aggiornarvi sulla situazione fare un po' di recap quello che ci aspetta la prossima settimana e quelle che sono delle tendenze molto forti per il prossimo futuro in maniera da esserne consci se insomma pensate di dovervi posizionare in una maniera anziché un'altra non vi ho dato veramente nessun consiglio finanziario vi ho portato delle informazioni siete liberi di andarle a interpretare come meglio credete e poi vi sono delle supposizioni delle opinioni sul futuro lo ripeto per la terza volta io e nessuno può andare a prevedere con certezza quello che accadrà però le tendenze sono innescate da tempo i numeri parlano abbastanza chiaramente fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti e se avete poi apprezzato questo veloce recap e queste considerazioni vi do appuntamento a prestissimo e come sempre lo sapete nel frattempo vi auguro il meglio nella vita e negli investimenti a presto